riunire i fili raccogliere i dati storici del flusso di cassa il flusso di cassa è la linfa vitale di qualsiasi attività commerciale per navigare nelle acque del business le aziende hanno bisogno di una chiara comprensione del proprio flusso di cassa il primo passo nello sviluppo di una previsione del flusso di cassa è raccogliere i dati storici del flusso di cassa questi dati fungono da base per le nostre previsioni consentendoci di identificare tendenze e schemi prendendoci il tempo necessario per raccogliere e convalidare i nostri dati storici sul flusso di cassa poniamo le basi per una previsione più accurata decifrare gli schemi analizzare i dati storici del flusso di cassa con i dati storici del flusso di cassa in mano possiamo iniziare il processo di analisi ciò comporta l'identificazione di tendenze schemi e fluttuazioni stagionali ad esempio un'attività commerciale al dettaglio potrebbe vedere un'impennata delle vendite durante il periodo natalizio seguita da un calo nel nuovo anno identificando queste tendenze e schemi possiamo iniziare ad anticipare le fluttuazioni future del flusso di cassa e prendere decisioni più informate guardare nella sfera di cristallo stabilire presupposti per le proiezioni future prevedere il flusso di cassa richiede di fare ipotesi sul futuro dobbiamo stimare le nostre entrate di vendita future tenendo conto delle condizioni di mercato e della concorrenza sul fronte delle spese dobbiamo considerare fattori come i costi delle materie prime e i costi del lavoro ci sono cambiamenti previsti in questi costi che potrebbero avere un impatto sul nostro flusso di cassa considerando attentamente questi fattori possiamo sviluppare una serie di presupposti che costituiranno la base delle nostre previsioni del flusso di cassa costruire la struttura creare un modello di previsione del flusso di cassa con i nostri dati storici analizzati e i nostri presupposti in atto possiamo ora iniziare a costruire il nostro modello di previsione del flusso di cassa questo modello fungerà da motore per le nostre previsioni prendendo i nostri input e generando proiezioni di futuri flussi di cassa in entrata e in uscita possiamo scegliere di sviluppare il nostro modello internamente utilizzando fogli di calcolo o software specializzato un modello di previsione del flusso di cassa ben progettato ci consentirà di eseguire analisi di sensibilità e pianificazione di scenari questo ci aiuterà a valutare l'impatto potenziale di diversi presupposti e variabili sul nostro flusso di cassa visione a breve termine calcolare le previsioni del flusso di cassa a breve termine dotati del nostro modello di previsione del flusso di cassa possiamo ora iniziare a generare proiezioni del nostro flusso di cassa futuro inizieremo concentrandoci sul breve termine tipicamente definito come i prossimi 12 mesi le previsioni del flusso di cassa a breve termine sono essenziali per gestire le nostre operazioni quotidiane e garantire liquidità sufficiente per far fronte ai nostri obblighi a breve termine queste proiezioni ci mostreranno se è probabile che avremo un surplus di cassa o un deficit di cassa in un dato mese abbracciare l'incertezza affinare le previsioni con l'analisi di sensibilità per tenere conto dell'incertezza dobbiamo eseguire analisi di sensibilità per valutare l'impatto potenziale di diversi scenari sul nostro flusso di cassa l'analisi di sensibilità prevede la regolazione dei nostri presupposti chiave come la crescita delle vendite o i costi dei materiali per vedere come questi cambiamenti influenzerebbero il nostro flusso di cassa previsto eseguendo questi scenari attraverso il nostro modello possiamo ottenere una migliore comprensione della gamma potenziale di risultati per il nostro flusso di cassa questo ci aiuterà a identificare potenziali rischi e opportunità e a sviluppare piani di emergenza per mitigare tali rischi orizzonti a lungo termine estensione delle proiezioni nel futuro le previsioni a lungo termine coprono in genere un periodo da 3 a 5 anni o più e forniscono una visione più ampia della nostra salute finanziaria e della nostra traiettoria lo sviluppo di previsioni del flusso di cassa a lungo termine richiede di considerare una gamma più ampia di fattori tra cui le tendenze del settore e le condizioni economiche dobbiamo essere consapevoli delle potenziali interruzioni e incertezze che potrebbero avere un impatto sulla nostra attività nel lungo termine le previsioni del flusso di cassa a lungo termine sono essenziali per prendere decisioni strategiche sugli investimenti di capitale e su altre iniziative importanti governare la nave monitorare e adeguare le previsioni del flusso di cassa la previsione del flusso di cassa non è un'operazione una tantum è un processo continuo che richiede di monitorare costantemente il nostro flusso di cassa effettivo rispetto alle nostre previsioni e di apportare modifiche secondo necessità rivedendo regolarmente le nostre previsioni e confrontandole con i nostri risultati effettivi possiamo identificare eventuali scostamenti e intraprendere azioni correttive se riscontriamo costantemente scostamenti significativi tra le nostre previsioni e il nostro flusso di cassa effettivo è segno che dobbiamo rivedere i nostri presupposti monitorando attentamente il nostro flusso di cassa e monitorando gli indicatori chiave di prestazione pertinenti possiamo anticipare i potenziali problemi e garantire che la nostra attività rimanga finanziariamente solida